Barletta, Basilica del Santo Sepolcro, situata in una posizione strategica tra due antichi assi di comunicazione diarie, la Francigena Adriatica da un lato e la via Percanosa che immette sulla via Traiana dall'altro, fin dalla fondazione conserva uno strettissimo rapporto con la Terra Santa e il sepolcro di Cristo. È stata infatti nei secoli in metà di transito per i pellegrini diretti in Terra Santa e per i crociati in viaggio dal porto di Barletta verso Gerusalemme. A quei tempi era anche affiancato dall'antico ospedale dei pellegrini. L'architettura appartiene al cosiddetto gotico temperato, traduco a spanne, un compromesso tutto interno alla tradizione italiana tra romanico e gotico, dove ovviamente la parola compromesso non ha nessuna connotazione negativa, indica solo un tratto di compromesso tra il gotico e il in Italia. Consuelo, solo junto a ti respiro, Un lato non ha nessun all'altro, la passare di sul conti è stata infini, la passare di prima dell'amore, la passare di più di più di più di più di più, da esperanza a mi dolore. Grazie a tutti. Grazie a tutti.